Carissimi ascoltatori di Radio Puggini On Air, preparatevi a festeggiare perché gli articolo 31 sono tornati con il botto. Dopo l'entusiasmante ritorno con il brano Un bel viaggio, a raccontare tutto ciò che c'è stato di bello ma soprattutto di brutto, presentato sul palco del Festival di Sanremo, il leggendario duo rap italiano ha mantenuto la promessa di non fermarsi a un singolo colpo di scena. Dopo un'estate memorabile segnata da una serie di concerti mozzafiato in giro per l'Italia presso le più prestigiose location all'aperto che hanno seguito le incredibili date sold out al forum di Assago e il loro coinvolgimento esplosivo in disco Paradise insieme a Fedez e Annalisa, gli articolo 31 sono pronti ad accendere anche l'autunno. Attraverso un post travolgente su Instagram, il duo ha annunciato l'arrivo imminente del prossimo singolo intitolato Vecchi di Merda, classico, con la loro tipica ironia. J-Axe e DJ Jed sono ritratti nell'immagine della loro cover in versione anziana con le classiche braccia incrociate dietro la schiena che caratterizza gli individui di una certa età. Nell'immagine gli Umarel osservano un cantiere edile commentando saggiamente l'andamento dei lavori. Non so se si dica Umarel, non sapevo nemmeno che si usasse questo termine, perdonate la mia ignoranza, ma altrimenti l'intelligenza artificiale a che serve? Allora gliel'ho chiesto e mi ha detto, è un termine, Umarel, poi non mi ha detto come si pronunci, come si dice, però penso, si legge, lo leggo in italiano, come è scritto, insomma. È un termine colloquiale italiano che indica una persona anziana, di solito un uomo, che passa il tempo a osservare i lavori in corso, in particolare i canteri edili. Quindi questo termine è spesso usato in modo scherzoso e affettuoso per descrivere gli anziani che si intrattengono a guardare i lavori in corso, dimostrando interesse e curiosità per l'attività in corso. Che succede? Ah, ok, sì, mi dicono dalla regia che forse si dice edili, cantieri edili, non edili. Vabbè, insomma, non stiamo a fare una lezione di italiano, ma allora io mi sono chiesto come mai questo termine così usato, io non l'ho mai sentito, e io ho scritto alla chat, chat GPT, possiamo dirlo. Mai sentito, ma è in dialetto? E lei mi ha risposto sì, hai ragione, certamente perché io non saprò tutto, ma sicuramente sono più intelligente dell'intelligenza artificiale, per cui per forza ho ragione, e ha continuato a dirmi umarel, 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 non so come si dica, è un termine che ha origini nel dialetto emiliano e deriva dal termine uomo con l'aggiunta del suffisso diminutivo rel, indicando quindi un uomo anziano. Questo termine ha guadagnato una certa popolarità negli ultimi anni, diventando parte del lessico comune in diverse regioni italiane per riferirsi in modo scherzoso agli anziani che passano il loro tempo a osservare i cantieri o i lavori in corso. Beh, fidiamoci di chat GPT solo perché non è una cosa così importante, insomma, perché per altre cose forse è bene non fidarsi troppo. Ma parliamo piuttosto, vedete, stasera c'è qualcosa che non va nel mio modo di comunicare. Il nuovo singolo, contrassegnato dalla sostituzione della E, cioè nel titolo vecchi di merda, la E di merda è sostituito con il simbolo dell'euro, per evitare i possibili inconvenienti con i filtri forse automatici sui social media, farà il suo debutto venerdì 27 ottobre, per cui proprio tra due giorni, ragazzi. Tuttavia al momento non ci sono aggiornamenti riguardo a un possibile album in arrivo, a distanza di 20 anni dall'ultimo, escludendo la raccolta un'ora con del 2013. L'attesa per il nuovo disco è palpabile, i fan non fanno che chiedere informazioni con ansia, la risposta di articolo 31 è chiara e concisa. L'album arriverà al momento opportuno. Per ora i dettagli sul testo e il significato della nuova canzone di J.A.X. e J.J.D. rimangono avvolti nel mistero, ma non dovremo aspettare a lungo, appunto, soltanto possiamo dire poche ore per svelare tutti i segreti nascosti dietro questa nuova produzione musicale. Continuate a seguire Radio Puginion Air per ulteriori aggiornamenti su questo entusiasmante ritorno degli articoli 31 e per tutte le ultime notizie del mondo della musica italiana. Il rap italiano è pronto a risplendere ancora una volta con tutto il suo splendore e la sua rinnovata energia. Noi ci ascoltiamo nella prossima puntata di Radio Puginion Air.